L'ho messa! Sei calombata! Sto cominciando a stancarmi in realtà Anche se adesso chiudiamo la bottiglia e arriva la seconda fase Guarda di bello! Non ce la faccio più! Ok, 3, 2, 1 Ehi, Nina! Mi è venuta in mente una challenge divertentissima! Sei pronta? Non mi dire che dobbiamo mangiare cibo colorato perché mi fa male la pancia Da tutte le caramelle che ho mangiato di nascosto prima Na, 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 niente cibo La challenge è l'ultimo che smette di saltare, vince! Ma è faticosissima! Anzi, sai che ti dico vince? 1000 euro! Ah, ok, aspetta, ho iniziato, eh! Na, 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 no, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo, Rina! Sto già saltando, ma è faticosissimo! Sì, ma stai saltando senza scarpe! E che cambia? Beh, cambia che dovrà indossare le scarpe che dico io! Perché stai piangendo? Che scarpe dovrai indossare? Scusa, per saltare è uguale scalza con le scarpe! Scusami un attimo, è che sono troppo emozionato e tra poco scoprirai il perché! Le scarpe che dovrai utilizzare per questa challenge sono contenute in questa scatola nera! Scusa, ma mi hai comprato delle scarpe per saltare? Beh, non delle semplici scarpe, ma le scarpe! Oh, sono troppo emozionato, sono troppo emozionato! Questa è la tua e questa invece è la mia! Perché dovresti essere emozionato per delle scarpe, Matti? Sono semplici scarpe che vanno ai piedi per saltare poi! Aha, aprile allora! Vediamo un po' queste scarpe! Wow, sono delle semplici converse, Matti! Cosa c'è di speciale? Aprile! Muoviti! Ok, vediamo un po'! Aspetta un attimo, perché c'è il nostro logo sulle scarpe? Mi devi dire qualcosa, Matti? Ti presento ufficialmente le scarpe di Lino e Matti in collaborazione con Mima Nera! Le scarpe di Lino e Matti? Ma sono bellissime, Matti! Sono tutte per me queste? Guarda, sono tutte rosa, super mega bellissime! Tutte glitterate e più ci siamo noi qua! Guarda, c'è la scritta Ninna Rosa e poi sopra ci sono io e sotto ci sei tu! Sono bellissime, Matti! Non me l'aspettavo, sinceramente! Sì, così si può saltare molto meglio! E sai qual è la cosa ancora più bella? È che queste scarpe le potrete avere anche voi! Queste sono ufficialmente le scarpe dei falsacchiotti in collaborazione con Mima Nera! Che ci ha permesso di realizzare queste scarpe personalizzate! Se siete veri i falsacchiotti le dovete avere! Ehm, aspetta un attimo Ninna, non so se ci hai fatto caso ma... Qui c'è un'altra scatola! Non ce l'hai uguale alle mie? Hmm, scopriamolo insieme! Ok! Andiamo ad aprire questa scatola e... Wow! Guardate qui! Non è la stessa scarpa ma un modello completamente diverso! Infatti queste sono delle adidas! E da come potete vedere ci sono tutti quanti i nostri colori! E davanti alla scarpa ci sono anche i nostri personaggini ufficiali! Ninna e Matti! Due modelli di scarpe! Uno con uno stile super mega rosa e l'altro invece con i colori di Ninna e Matti giallo e azzurro! E la cosa bella è che nel link in descrizione potrete ordinare entrambi i modelli! Infatti in descrizione troverete il link mimanerashop.com per acquistare queste bellissime scarpe! E potrete andare anche nel nostro sito ninnaematti.it in cui ci sarà una pagina proprio delle scarpe che cliccandola vi porterà sul sito di Mimanera per ordinare il vostro modello preferito! E a voi quale piacciono di più? Ora però me l'hai messo e inizia la challenge! Si parte! Ora mi leggo la scarpa e sono quasi pronta ad iniziare! Manca solo l'altra! Sono pronto! Ok ci siamo! Bene! Dovrò stare 24 ore così! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Ok sono pronto! Con queste scarpe sono comodissimo! Anche se sarà abbastanza faticoso affrontare questa challenge! Spero che Ninna si stanchi prima di me! Quello che proverò a fare adesso sarà riuscire a riempire un bicchiere d'acqua saltando! Secondo me è impossibile! Ma la parte più difficile arriverà dopo! Ok vado! Oh ok! L'ho messa! L'ho messa! Sì! Ce l'ho fatta! Oh! Stai cominciando a stancarmi in realtà! Anche se adesso chiudiamo la bottiglia e arriva la seconda fase! Quella di Berlo! Non ce la faccio più! Ok 3, 2, 1! Spero che Ninna non se ne accorga! Adesso mi tocca anche pulire! Uffa! Ok spostati! Proviamo saltando! Perché vi è venuta in mente questa challenge? Ok! E' 1, e' 2, e' 1, e' 2, e' 3! Ok! In questo momento vorrei solo andare a dormire! Ok! Devo fare una cosa! Devo saltare sul letto! Avete capito? Così fatico di meno! Guardate! Ok! Perfetto! Ok! Ora devo saltare il biscotto! Ah! Ho fatico ancora di più così! Vabbè! E proviamo! E' troppo divertente questa challenge! Faticosa! Ma divertente! Ok! Devo dire che con questo biscotto ho recuperato quasi tutte le energie! Sono così stanca! Non ce la faccio più di saltare! Vabbè! Non dite la matti! Mi mancava rimanere ferma! Devo dire la verità! Sto saltando da 20 minuti! Ed è difficilissimo! Vediamo cosa sta facendo Ninna! Ehi Ninna! Sì? Che fai? Tutto bene? Tutto bene! Guarda! Ho imparato a saltare sul letto! Ora però salto sul pavimento! Tu che fai? Ok! Ti ricordo che devi saltare anche mentre non ci sono io! Io sono versato un pochino d'acqua sul tavolo! A dopo! Dai! Ce la devo fare! Ce la devo fare! Uffa! E' la quarantesima partita che perdo! Giocare saltando è impossibile! Ehi! Che c'è? Che fai? Sto giocando alla play e le ho perse tutte! Ok! Io leggo! Bene! Molto divertente! Vai! Dimmi cosa stai leggendo! Ma... Eh! Eh! Cosa? Uh! 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 Ma cosa stai dicendo? Uh! 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 Posso sapere in che lingua è questo libro per caso? È in italiano! Ma mentre salto si salta anche il libro! E quindi fa così! E non ci vedo niente! Dai! Concentrati! Prova a leggere soltanto una frase! Ok! Uh! Eh! Un'altra! Eh! Va bene! Va bene! Va bene! Basta così! Vado a perdere la mia cinquantesima partita! Matti! Sì? Ma quanto deve durare questo challenge? Non lo so! Fino a quando qualcuno non si arrende potresti fermarti anche ora se vuoi eh! No! Non mi fermerò mai! Io sono troppo felice! Non perderò mai! Semplicemente perché sono con le mie super nuove scarpe! Guardate qui! Scusate ma non posso fermarmi! Guardate che colori! Vabbè! Senti ho capito! Non vincerò mai questa partita alla play! Vado un pochino a lavorare al computer! Ok! A dopo! Ciao! Ciao! È così il salcante saltare! Ah! Che bello riposarsi un po'! Ragazzi mi fermo un attimo per farvi vedere il glitter dietro! È bellissimo! E' bellissimo! Video di Minna! No! Che cosa ho cercato? Oh no! Video di Minna! Oh no! Io avevo cercato video di Minna Max! No! Ho sbagliato di nuovo! Ah! Sentite! È impossibile cercare il nostro canale saltante! È proprio impossibile! Che cosa faccio? Non ho niente da fare! Questo salto mi sta facendo vedere mal di testa! Ci riprovo per l'ultima volta! Video di Minna! E' moiti! No! 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 Oh vabbè senti! Basta! Non lo utilizzo! Ho capito! Non lo utilizzo! Adesso sapete che vi dico? Mi metto a riposare sulla mia postazione! In questo modo! Ah così! Ecco qua! Perfetto! Buonanotte! È un po' scomodo saltare! In questo modo! Prima o poi spaccherò la sedia! Basta! Sono così belle! Il nostro logo è anche la scritta rosa qua! Cosa stai facendo? Queste stringhe! Eh! 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 Le stringhe! Molto belle le stringhe! Le hai scelte tu Matti? Ehi! Ma tu eri seduta o sbaglio? No! Non ero seduta! Stavo ammirando le mie scarpe! Ecco! Sì sì vabbè! Senti! Facciamo qualcosa? Dato che non posso utilizzare il computer! Non posso giocare alla play! Non posso mangiare! Mi è venuta in mente una challenge da fare con te! Chi riesce a fare più saltelli in 60 secondi ha vinto la sfida! Che ne dici? Ok! Ci sto! Iniziamo! 3, 2, 1, inizia la sfida! Uh! Non lo farei più! Aiuto! Aiuto! Matti! Dove sei? Oh no no no! Aspetta! Ci deve essere stato qualche problema! Non ce la faccio più! Quindi hai ufficialmente perso! Eh! Quindi ho vinto! No? È vero? Mi posso fermare! Ti prego! Beh! Sono stata brava con le mie scarpe di nenni matti! Davvero faccio chiesto! Sono stata veramente brava! Per questa volta hai vinto tu! Solamente perché mi ero stancato troppo! C'è da dire però che anche la versione delle adidas è davvero comodissima! È vero! Vi ricordiamo che trovate le scarpe di nenni matti nel link in descrizione sul sito di Mima Nera! Oppure andando sul nostro shop nenni matti.it! Cosa stai facendo nenni? Mi sono messa le tue adidas! Forse ti stanno un po' lunghe! Sì effettivamente sì però sono belle anche queste! Taggateci su Instagram nenni matti trattino basso official quando vi arrivano le scarpe in modo che noi possiamo vedere tutte quante le vostre foto! Ciao! Ciao!